in quasi tutta la città. Vogliamo che il sindaco Seri ci metta la faccia dopo averlo sbandierato in campagna elettorale chiediamo che venga lui a spiegare e a confrontarsi con associazioni di categoria ai cittadini che subiranno questa nuova gabella comunale su ciò che i suoi assessori hanno combinato. Non usano mezzi termini consiglieri leghisti fanesi e alzano il tiro sul tema parcheggio a pagamento deliberati dalla giunta comunale che saranno operativi da febbraio 2020. Non c'è stata nessuna concertazione nessun confronto nemmeno un accenno ci troviamo con le spalle al muro senza aver avuto il modo di discuterne nel luogo deputato a questo contesto ovvero il consiglio comunale per questi stravolgimenti della città che influiranno pesantemente sul tessuto economico sociale e sulle strutture ricettive della zona mare di fano. 400 parcheggi a pagamento dicono i leghisti in più in un unico colpo senza aver avuto modo di dibattere sull'argomento assomigliano più a un colpo di mano che a una inversione culturale nel settore mobilità fanese. Non ci saremmo mai aspettati che in sede di bilancio venisse approvata questa nuova tassa di fatto sia verso i residenti, i turisti e anche verso gli operatori commerciali che verranno duramente colpiti da questa nuova istituzione. È inutile che la mascherano come un favorire la mobilità sostenibile qui a tutti gli effetti una nuova tassa anzi un potenziamento di una tassa perché alcuni parcheggi verranno aumentati nelle tariffe ci saranno nuovi parcheggi blu in tutta la zona mare nel centro storico che già a tanti stalli blu verranno aumentati con il parcheggio dello sferisterio. Noi abbiamo provato e proveremo a rinviare queste delibere in consiglio comunale domani e dopodomani quindi noi chiediamo il ritiro della delibera, una concertazione con gli operatori, con i residenti di tutta la zona mare che verranno duramente colpiti. Questa operazione in cui Aset gestirà i nuovi stalli comporta il versamento al comune per la gestione delle nuove soste a pagamento di 250 mila euro. A questi vanno sommati anche 203 mila euro di Tosap dicono i leghisti. Alla fine è solo un'operazione esclusivamente per far cassa. Non c'è nessun collegamento fra i 250 mila euro prelevati da Aset di fatto e l'investimento sul territorio a garanzia di quelle che sono le categorie colpite. Per cui abbiamo chiesto attraverso un emendamento che venga istituito un protocollo d'intesa che vincoli il comune a spendere quei 250 mila euro proprio per le categorie che verranno più colpite. Chiederemo di far cassa con 150 mila euro dal fondo del sindaco e altri 100 mila euro da un altro fondo proprio per andare a rimpinguare quei 250 mila euro che sembra che siano veramente necessari per chiudere il bilancio, cosa che assolutamente è lontano dalla verità e questa cosa è assolutamente inaccettabile.